Il valore più importante che mi ha insegnato lo sport è il rispetto. Mio nonno ogni volta che mi salutava mi diceva Filippo sempre a testa alta. Ecco, questo per me voleva dire che solo comportandomi bene avrei potuto camminare a testa alta. Nel rispetto c'è tutto, anche rialzarsi dopo una sconfitta e soprattutto invece dopo una bella vittoria saper confortare il proprio avversario. Tutti quanti abbiamo dei sogni e degli obiettivi. Sicuramente non sarà scontato e non sarà facile ma dovete provare a fare di tutto per raggiungerli sempre rispettando i vostri valori.